Il Napoli a quanta 10 punti Contro 1, Boyer per Belotti Entra in area Belotti Belotti! Szczesny con il riflesso per deviare in corner Ma che giocata di Boyer Si dispera Mijajlovic Kalinic, teglio il cross sul segreto palo C'è Milic, controllo e sinistro Szczesny Iago Falke, la parata di Szczesny Attenzione Falke, palo Ancora Falke, Szczesny Una partita esplosiva Altra grande chance di Torino Potrebbe andare vittuamente 2-0 Szczesny, era di rigore Szczesny, la mette verso i caldi La grande questione di Malab Balla che resta buona Fazio Qua in Caldreva al volo Szczesny con una parata super Tega 1-1 ad Antonio Caldreva Chi si è coordinato in una maniera spettacolare Per andare al volo con il sinistro Grande parata di Bajek Szczesny Movimento di Falcinelli Salzano, il palo di Salzano Nel secondo gol stagionale Palladino e la parata di Szczesny È una serata no per il Crotone Rigore neutralizzato da Szczesny Trova poi la combinazione Barretto il colpo di Tacco Bericiccia Chi nel fondo Che è il tuo Bericiccia La tocca ancora Szczesny E se cominci Grazie a tutti Grazie a tutti